Matt ha costituito addirittura dire che per alcuni non ci sono abbastanza variazioni di nemici La cosa è che tutti i gameplay che stanno a girare di recente Matt Sono della zona iniziale Quindi tocca vedere Cioè io non vedo l'ora che arriviamo magari in quel momento dove ci stanno le varianti di Sauri E le meduse e compagnia Però penso che in quel caso vado sempre a parlare dove Io preferisco avere pochi nemici ma ben strutturati Cioè avere che tanto tu mi crei 300 nemici De cui 100 su umanoidi e bene o male fanno tutti la stessa cosa Me scago i coglioni Preferisco avere ok c'hai il Goblin che c'ha però tutta la sua diatriba di roba Che si nasconde nei cespugli Che ti tira le boccette che poi ti dà fuoco Che ti tira le torce C'hai quello più grosso che suona il corno C'hai quelli che ti fanno le imboscate dall'alto Quelli che ti tirano le rocce I Sauri che hanno i loro modi di fare C'è quello velenoso Io preferisco appunto che ci sia complessità a livello di A E cose che sa fare il nemico Piuttosto che avere boh in The Witcher il droga che ti fa gna 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 E c'hai lo Zombo che ti fa gna 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 C'è tipo robe del genere Poi dipende poi se ci sarà una sorta di bioma finale Io adoro Se magari succede come nel primo Senza fare spoiler Che c'è sta il cambio totale di mood E cominciano a sbucare le gore chimera I gore cyclops e compagnia Qua appunto c'hanno le loro tattiche C'hanno i loro modi di combattere Di essere affrontati E se non li capisci te boncano Il goblin è stronzetto e deboluccio Sì Ma se te prende in gruppo Te apre il culo Però è compensivo Ma poi enormi nemici sono quelli Ma più che altro non è tanto Basta la cosa dei nemici sono quelli Cioè il fatto è che i nemici Si adattano all'ambiente Cioè là non è soltanto C'è il goblin Lì c'è Io sto in salita C'è il goblin che mi tira le rocce Io sto dall'altra parte del ponte Il goblin cerca di rompere il ponte Io sto in mezzo a una piazza Piena di erba alta Vado in mezzo I goblin mi cominciano a saltare Addosso da ogni angolo Da sopra tirandomi le boccette Per darmi fuoco Per farmi con l'olio Con le rocce Cioè è quella la figata di Dragon's Dogma È il avere questo ambiente Appunto sandbox Dove tu hai E fisica E ambienti E roba dinamica E intelligenza artificiale Che calcolano 18.000 cose Per questo Quando siamo in mezzo A quei 25 goblin La CPU arrancava Perché non è semplicemente Il Ah c'è il nemico Vado vicino al nemico L'attacco C'erano 30 entità In combattimento Che dovevano reagire Agli stimoli interni loro Agli stimoli esterni E nel mentre Non buggarsi In un level design Per quello Io sto adorando L'intelligenza artificiale Perché è figa Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima